ben ritrovati di nuovo su reviewing you oggi vado a recensire insieme a voi questa borsa frigo che mantiene anche il caldo acquistata su amazon ad un prezzo veramente basso e vi lascio qui sotto il link in descrizione così potete andarla a guardare meglio me la faccio vedere arriva all'interno di una confezione di plastica come vedete ha delle dimensioni davvero contenute abbiamo ve le vado a leggere 25 centimetri virgola 5 per 13,5 centimetri possono comunque variare lo dice il venditore a dipendenza sono fatte quindi a mano comunque con i macchierani quindi possono variare di qualche millimetro e l'altezza poi una volta messe le cose e chiusa abbiamo 18,5 centimetri materiale di stoffa bello resistente anche al tatto cuciture ben fatte qua c'è la maniglietta abbiamo come vedete all'interno la parte che serve a evitare l'escursione termica che sia caldo o che sia freddo cerniera una taschina davanti che può essere ideale per mettere all'interno dei tovagliolini una forchetta cucchiaio eccetera questa è la cerniera poi all'interno abbiamo anche questa specie di cordina di tela con i gancetti in plastica che vi permettono di metterla a tracolla quindi anche comodo vado a aprirlo un attimo interamente così la vedete nel piano della forma è davvero comoda secondo me per chi magari si vuole portare un tupperware con il mangiare durante la giornata in ufficio a scuola al lavoro è veramente comoda ripeto e non ingombra neanche tanto come vedete una volta che è riempita serve veramente a fare il serve veramente al minimo indispensabile ma comunque ad un pranzo comunque anche magari ad un piccolo picnic abbiamo alla fine come portata viene indicato due panini una bottiglia di succo e una mela quindi sul sito trovate anche indicativamente le dimensioni o se no anche due lattini di coca cola e due mele eccetera altro da dire niente come vi dicevo può mantenere sia il caldo che il freddo quindi potete un po' usarla in entrambi le occasioni se vi è interessata la recensione vi invito a iscrivervi al canale a lasciare un like e vi lascio il link in descrizione per poter acquistare questa fantastica borsa frigo barra borsa termica per il calore alla prossima di più